Forza nuova contro il Burkini al Lido di Bolzano. Questa mattina militanti del movimento di estrema destra hanno organizzato un sit-in proprio davanti, la struttura balneare di Viale Trieste. Il discorso Burkini è un protesto, perché noi diciamo no a questo ennesimo aiuto sempre verso l'immigrato e l'immigrazione. Cioè loro chiedono una cosa e la ottengono, oppure vedono qualcuno in difficoltà da parte del comune e loro vengono aiutati, mentre l'italiano su Tirolese o il dadino o l'italiano di madrelingua tedesca non viene aiutato. È una piscina comunale, quindi aperta per tutti, ti adegui, cioè non siamo noi che dobbiamo adeguarsi a loro, sono loro che devono adeguarsi a noi, sono loro che devono integrarsi, non noi. Quindi se no si faranno la loro piscina privata e che vanno dentro anche vestiti come vogliono.